Il miglior modo per dormire è uno. Balducci. Da Balducci, il meglio di materassi di qualità, letti e reti con le marche più prestigiose, come Vice Spring, Falomo e Simons. Se vuoi dormire bene, non scegliere a caso. Scegli il meglio. Scegli Balducci. A Cattolica, in via Respighi. Info 0541 95 11 17. Balducci, cultura del dormire.